Un percorso ricchissimo fra complementi di arredo ed oggetti quotidiani, ma anche preziosità e curiosità, argenti, ceramiche, vasi e sculture, creazioni dal 1500 ai primi decenni del 900. Le porte del Centro Convegni Sant'Agostino il prossimo 20 agosto si riapriranno così a Cortona Antiquaria, manifestazione che quest'anno compie 60 anni. Ci sono 20 stand, quindi è tutto full, tutto pieno. Siamo molto soddisfatti, ci sono anche antiquari stranieri. Sono davvero contento del fatto che nonostante la crisi, nonostante la pandemia, una volta alzato il telefono, gli antiquari hanno subito confermato la presenza, quindi vuol dire un attaccamento molto importante a Cortona. Il posto si presta proprio per tutta questa serie di iniziative, è attrezzato per fare queste iniziative, anche come struttura e già dal 18 di settembre fino al 5 ottobre partirà questa Cortona in Arte che volutamente non riguarderà solo questo centro, ma anche il Teatro Signorelli, proprio perché sia coinvolta tutta la città. Cortona Antiquaria porta con sé anche la mostra collaterale Un Viaggio nel Futurismo. Si svolgerà nel foyer del Teatro Signorelli e proprio per ragioni di spazio abbiamo pensato ad una location all'interno del centro storico e presenterà opere di Boccioni, Balla, Danna e quindi di tanti altri futuristi che condividevano con il nostro Gino Severini la stessa idea, la stessa concezione di arte. Oltre questo ci sarà proprio un dipinto per la prima volta presentato al pubblico, quindi di nuovissima acquisizione da parte della fondazione che allestisce la mostra, di Danna, che verrà esibito e esposto per la prima volta. Ad Elisabetta Belloni, infine direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, il premio Cortona Antiquaria 2022. Ci sarà anche un concerto molto importante di Tuglio di Episcopo, perché? Perché Tuglio di Episcopo riceverà insieme a Elisabetta Belloni il premio Cortona Antiquaria. Quindi ci sarà un premio Cortona Antiquaria per quanto riguarda l'artistico e un premio Cortona Antiquaria alla personalità dell'anno.